per il corpo del nostro babbo natale prendiamo sempre ovviamente il filato rosso e andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie basse 1, 2, fino a 6 al termine delle 6 maglie basse tiriamo, stringiamo l'anello e andiamo a realizzare 6 aumenti nelle 6 maglie sottostanti al termine dei 6 aumenti ci ritroveremo nel nostro lavoro 12 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale faremo 1 maglia bassa e 1 aumento 1 maglia bassa e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 18 maglie basse procediamo con il giro successivo, il quarto, nel quale faremo 2 maglie basse e 1 aumento 2 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 24 maglie basse nel quinto giro lavoreremo 3 maglie basse e 1 aumento 3 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 30 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale faremo 4 maglie basse e 1 aumento 4 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 36 maglie basse nel prossimo giro realizzeremo 5 maglie basse e 1 aumento 5 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 42 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale faremo 6 maglie basse e 1 aumento 6 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 48 maglie basse 6 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 54 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale realizzeremo 8 maglie basse e 1 aumento 8 maglie basse e 1 aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 60 maglie basse procediamo con il lavorare 5 giri concentrici di 60 maglie basse procediamo con il prossimo giro nel prossimo giro andremo a lavorare sempre 60 maglie basse però prendendo invece che tutto il punto solo la costa retro la costina dietro il punto è questo qui abbiamo le due costine prenderemo solo ed esclusivamente quella dietro lasciando quella davanti libera e lavoriamo tutte le nostre 60 maglie del giro in costa dietro una volta terminato il giro in costa dietro procederemo a fare un altro giro completo di 60 maglie basse prese ovviamente normalmente questo giro quindi prendiamo tutto il punto e lavoriamo le nostre 60 maglie basse procediamo con il giro successivo realizzando 8 maglie basse e una diminuzione quindi una andiamo a marcare la prima la diminuzione infreschiamola prendiamo le due costine esterne dei due punti successivi le chiudiamo insieme e poi chiudiamo la maglia bassa lavoriamo adesso 3 giri completi di 54 maglie basse procediamo adesso con il giro successivo nel quale lavoreremo 7 maglie basse e una diminuzione 7 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 48 maglie basse dopodichè faremo 3 giri completi scusate di 48 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale faremo 6 maglie basse e una diminuzione 6 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 42 maglie basse dopodichè procederemo a fare 3 giri concentrici di 42 maglie basse procediamo con la lavorazione del giro successivo nel quale faremo 5 maglie basse e una diminuzione 5 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 36 maglie basse procediamo con il lavorare 3 giri concentrici di 36 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale lavoreremo 4 maglie basse e una diminuzione 4 maglie basse è una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 30 maglie basse proseguiamo adesso con il lavorare 10 giri concentrici di 30 maglie basse a questo punto possiamo procedere ad imbottire tutto il corpo del nostro babbo natale sicuramente andrà via un bel po' di imbottitura però poi ne varrà la pena perché sarà veramente molto 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 carino e lo imbottiamo tutto fino a renderlo bello cicciottello l'imbottitura del corpo sarà effettuata più piatta da una parte quindi dalla parte della schiena e più panciuta ovviamente dove faremo il pancione del nostro babbo natale quindi riempiremo più la parte di fronte rispetto a quella dietro una volta che abbiamo terminato di imbottire tutto il nostro lavoro andremo a fermare il filo mettiamo sempre il filo in un ago della lana prendiamo la testa del nostro babbo natale e la posizioniamo in questo modo la appoggiamo al corpo ovviamente la testa deve essere dalla parte dove c'è la panciona e la cuciamo così quindi la parte più piatta sarà nel retro e andiamo a cucirla come facciamo sempre con i nostri amigrumi prendendo un punto dal corpo e un punto dalla testa un punto dal corpo e un punto dalla testa e procediamo col cucire tutta la testa al corpo del nostro babbo natale giriamo adesso il nostro babbo natale con la schiena rivolta verso l'alto prendiamo il filato rosso sempre quello che abbiamo utilizzato per realizzare il corpo e andiamo ad inserire l'uncinetto nella riga vedete la riga che avevamo lasciato quando abbiamo lavorato le 60 maglie in costa davanti in costa dietro scusate la costina di fronte è rimasta in rilevo quindi noi andremo ad agganciarci a questa costina e a riprendere tutte le maglie quindi riprendiamo tutte le 60 maglie dalla costina e andiamo a riprendere tutte le nostre maglie molto scomodamente vi manderete qualche accidente e le riprendiamo tutte iniziamo questa è la pattina della giacca di babbo natale praticamente iniziamo a lavorare con il lavorare 10 giri concentrici di 60 maglie basse una volta terminati i nostri 10 giri a maglia bassa procediamo col farne altri 3 a maglia alta quindi facciamo 3 giri concentrici a maglia alta una volta che avremo terminato con i giri di maglie alte ci agganciamo alla maglia successiva facciamo una maglia bassissima tiriamo tagliamo e fermiamo il filo a questo punto prendiamo l'ago da lana inseriamo il filo nell'ago e lo facciamo sparire giriamo sotto sopra e andiamo a far sparire il filo di lavorazione all'interno dei punti sotto così facciamo passare attraverso un po' di punti dopo di che tagliamo via ecco per realizzare la fascia bianca che va in fondo alla giacca di babbo natale con il filato bianco che abbiamo utilizzato per fare il bordino del cappello e il pompon facciamo una catenella di 70 maglie dopo di che andremo a lavorare righe di andate e ritorno di maglia bassa fino a coprire la parte dove abbiamo realizzato la maglia alta quindi vediamo quanti centimetri dobbiamo farne dobbiamo fare 5 centimetri di lavorazione nella nostra catenella di 70 maglie quindi giri di andate e ritorno fino a raggiungere un'altezza di 5 centimetri una volta raggiunti 5 centimetri facciamo un ulteriore giro di maglia bassa quindi andiamo una riga sopra le tre righe di maglia alta quindi facciamo in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6 io ho fatto 6 ne farò 7 7 giri di maglia bassa una volta che avremo terminato la nostra ultima riga di maglia bassa facciamo una catenella aggiuntiva tiriamo tagliamo e fermiamo il filo procediamo adesso a realizzare la banda quella che va la banda centrale che va a chiudere la giacca del nostro babbo natale e la faremo larga 4 centimetri vediamo un po' si 4 centimetri direi che va che va più che bene la faremo larga 4 centimetri quindi andremo a realizzare una catenella che parte da sotto la barba diciamo dall'inizio del collo fino all'inizio della striscia che chiude la giacca quindi la giacca la striscia arriva in fondo in questo modo e noi la strisciettina che chiude la giacca la dovremo fare arrivare fino qui quando arriviamo qui con la lunghezza della catenella ci fermiamo e cominciamo a lavorare i giri andati e ritorno a maglia bassa come abbiamo fatto qui per 4 centimetri una volta che abbiamo terminato i nostri 4 centimetri di maglia bassa facciamo una maglia aggiuntiva tagliamo e fermiamo anche questo filo adesso prendiamo il bordo inferiore della giacca e il bordino che abbiamo realizzato per la chiusura della stessa e li uniamo in questo lato quindi da rovescio a rovescio con ago e filo andiamo ad unirli prendendo un punto e un punto dalla parte rovescia così un punto e un punto fino a che non l'abbiamo unita tutta una volta che avremo unito tutta la nostra striscetta ci agganciamo un punto accanto facciamo un punto asola e andiamo a nascondere il filo di lavorazione all'interno dei punti lavorati così un po' di punti tiriamo e facciamo sparire il filo tagliandolo così adesso sempre con il filo bianco andiamo ad attaccare la nostra i nostri bordi alla giacca quindi partiamo dal collo mettiamo la striscetta attaccata bene al collo e andiamo a realizzare una chiusura partiamo dalla parte sinistra così e dobbiamo sovrapporre la destra alla sinistra in questo modo in modo che sembri proprio la chiusura della giacca vedete così quindi la posizioniamo bene e partiamo con la cucitura la attacchiamo appena appena sotto il bordo rosso cioè il bordo rosso deve essere sotto quello bianco in modo che quando noi giriamo la giacca il bianco sia un pelino più lungo così e andiamo a cucirla e andiamo a fermare tutto il bordo intorno una volta che avremo attaccato la parte sotto procederemo con attaccare quella sopra una volta che avremo fissato tutto il bordo sopra e sotto procederemo col cucire la chiusura della giacca in questo caso la tiriamo in modo da renderla morbida andiamo ad inserire l'ago ovviamente all'interno della striscietta stessa e prendendo un punto agganciando i punti da sotto in questo modo andremo a chiudere la bandina della giacca procediamo adesso con la realizzazione della cintura del babbo natale che andrà applicata nel punto dove abbiamo ripreso le maglie per continuare la giacca in lunghezza facciamo io ho fatto una catenella col filato nero e l'uncinetto sempre del 6 una catenella di 83 maglie che andrò a lavorare per 4 cm a maglia bassa quindi procediamo con io realizzo un'altra catenella vado a saltare la catenella sotto all'uncinetto e comincio le mie righe di maglia bassa per 4 cm una volta che avremo terminato di lavorare la nostra cintura andiamo a fare una catenella aggiuntiva tagliamo e fermiamo il filo adesso prendiamo il babbo natale e posizioniamo la cintura in questo modo la appoggiamo appunto deve coprire praticamente il punto nel centro della cintura andremo a posizionare il centro della cintura sulla divisione nel punto in cui abbiamo ripreso le maglie così e la cuciamo in tutto intorno lasciando libera questa parte dove poi andremo ad applicare la fibiettina per realizzare la chiusura prendiamo il filato quello argento o grigio se non l'avete argento va bene anche grigio e con l'uncinetto numero 3 andiamo a realizzare una catenella 10 maglie facciamo una catenella aggiuntiva e andiamo a lavorare 10 maglie basse nella catenella appena realizzata per due giri consecutivi quindi facciamo due giri di maglie basse terminati due giri di maglie basse procediamo con il lavorare due maglie basse lasciando stare le altre per ora una e due maglie basse per 4 cm ossia per la lunghezza della nostra della nostra cintura anzi anche un pochino di più se è leggermente più lunga è meglio perché la fibbia deve essere oltre la cintura quindi lavoriamo fino a che non abbiamo sorpassato di qualche millimetro la cintura ma poi lo vediamo insieme una volta che saremo arrivati all'altezza con qualche millimetro in esubero da una parte dall'altra della nostra striscietta andiamo a lavorare in cossa cioè pieghiamo noi stiamo lavorando così pieghiamo in questo modo facciamo una catenella aggiuntiva nell'ultima maglia che abbiamo realizzato una maglia bassa aggiuntiva nell'ultima maglia che abbiamo fatto e una successiva quindi due e procediamo a lavorare fino ad arrivare a questo punto quindi dobbiamo realizzare una parte uguale a questa procediamo adesso una volta che siamo arrivati alla stessa altezza dell'altra striscietta a voltare nuovamente il lavoro lavorare come prima facciamo una catenella scusate una maglia bassa nell'ultima maglia bassa che abbiamo realizzato lateralmente adesso realizziamo un'altra maglia bassa e procediamo a lavorare giri di andate e ritorno di due maglie basse fino a congiungerci con l'altra parte quindi lavoreremo lo stesso numero di maglie che abbiamo lavorato in questo lato lo lavoriamo qui fino a congiungerci con l'altra parte una volta che saremo arrivati all'altezza facciamo una maglia aggiuntiva tiriamo e tagliamo una gugliatina di filo abbastanza lunga non esageratamente fissiamo poi prendiamo l'ago da lana e inseriamo il filo nell'ago così poi voltiamo mettiamo pari i due lati e li uniamo con qualche punto così facciamo un punto asola e andiamo a far sparire il filo di lavorazione all'interno della lavorazione stessa una volta che abbiamo terminato di cucirla la posizioniamo in questo punto così la mettiamo bella dritta e andiamo a fissarla ovviamente la parte dove abbiamo cucito la lasciamo dietro quindi la nascondiamo e andiamo a fissare la nostra fibbia alla cintura la mettiamo dritta in modo che non faccia curvettine strane e la fissiamo tutta alla cintura una volta che avremo cucito la fibbia alla cintura procediamo con inserire un pezzetto di filo sempre argentato all'interno della fibbia stessa nel centro in questo punto così lo facciamo passare dentro così dopodiché andremo a fare la chiusurina della fibbia e la facciamo in questo punto così la ricamiamo praticamente entriamo un po' di volte dopodiché ci agganciamo al laterale facciamo un punto asola per bloccare il filo dopodiché lo facciamo sparire all'interno della fibbia stessa così ecco e lo togliamo adesso facciamo un altro pezzettino un'altra striscettina piccolina nera da mettere qui per fare il blocco della fibbia della cintura ecco qui e la cintura è completata e quindi tutta la giacca del nostro babbo natale è terminata procediamo adesso con la realizzazione delle braccia e delle gambe iniziamo con la realizzazione delle manine e le realizzeremo in rosso perché le mani di babbo natale sono guantate quindi con il guantino rosso iniziamo con il pollice e facciamo un anello magico di 7 maglie basse 1 2 fino a 7 terminate le 7 maglie basse tiriamo l'anello e facciamo 5 giri concentrici di 7 maglie basse al termine fermiamo il filo e abbiamo realizzato il pollice per le altre dita realizziamo un anello magico di 6 maglie basse dopodichè andremo a lavorare 6 giri concentrici di 6 maglie basse lo facciamo per 3 dita nel medio invece di 6 giri ne facciamo 7 quindi un giro in più e procediamo così con la realizzazione di tutte e 4 le nostre dita una volta che abbiamo terminato i nostri giri quindi 6 giri per le 3 dita e 7 per il dito medio andiamo ad agganciarci alla maglia successiva facciamo una maglia bassissima tiriamo e tagliamo il filo una volta che abbiamo terminato di realizzare l'ultimo dito andremo ad unire le altre ovviamente nell'ultimo dito non taglieremo il filo lavoriamo innanzitutto 3 maglie basse 1 2 e 3 maglie basse dopodichè prendiamo l'altro dito lo accostiamo inseriamo l'uncinetto in una qualsiasi delle maglie prendiamo ovviamente questo è l'indice prendiamo ovviamente quello dove abbiamo lavorato i giri di 7 7 giri di 6 maglie basse quello più lungo per capirci che è il medio e andiamo ad unirlo con una maglia basse 2 e 3 maglie basse uniamo anche l'altro quindi prendiamo un altro qualsiasi degli altri due dita inseriamo l'uncinetto in una delle maglie e andiamo a riprendere anche in questo caso 3 maglie basse quindi una due e 3 maglie basse a questo punto attacchiamo l'ultimo una due e 3 maglie basse voltiamo il lavoro cioè voltiamo le quattro dita e andiamo a realizzare 12 maglie basse quindi riprendendo le altre tre maglie da ognuna delle dita adesso abbiamo 24 maglie basse nel nostro lavoro tra le dita davanti e le dita dietro i fili delle dita li possiamo tirare dentro le dita stesse con il gommino di una matita quindi li portiamo all'interno del dito stesso e procediamo così con tutti i fili una volta che avremo inserito tutti i fili di lavorazione all'interno delle dita potremo imbottirle con un pochino di imbottitura io le imbottisco alla fine quando ho realizzato tutta la mano imbottisco comunque se voi volete potete anche cominciare ad imbottirle adesso appena appena adesso lavoriamo abbiamo 24 maglie nel nostro lavoro lavoriamo due giri di 24 maglie basse quindi andiamo a riprendere tutte le maglie che abbiamo tirato su nel giro precedente e lavoriamo due giri completi di 24 maglie basse una volta terminati i due giri di 24 maglie basse procederemo con attaccare anche il pollice quindi andremo a realizzare altre 6 maglie basse prendiamo il pollice inseriamo l'uncinetto in uno dei punti e andiamo a realizzare altre 6 maglie basse quindi una e 6 maglie basse lavoriamo adesso un giro da 30 maglie basse una volta terminato il giro di 30 maglie procediamo con il giro successivo che inizierà con una diminuzione quindi prendiamo le due costine dei due punti successivi e diminuiamo lavoriamo adesso 23 maglie basse quindi una due fino a 23 terminate le 23 maglie basse procediamo con una diminuzione e terminiamo il giro con 3 maglie basse quindi una due e 3 maglie basse procediamo con il giro successivo a questo punto nel nostro lavoro nel nostro lavoro abbiamo 28 maglie basse lavoriamo due giri completi di 28 maglie basse procediamo con il giro successivo iniziamo con una diminuzione lavoriamo adesso 21 maglie basse terminate le 21 maglie basse facciamo un'ulteriore diminuzione e chiudiamo il giro con 3 maglie basse 1 2 e 3 passiamo al giro successivo che inizierà sempre con una diminuzione quindi la prima maglia le prime due le diminuiamo e lavoriamo 19 maglie basse 1 2 fino a 19 terminate le 19 maglie basse facciamo un'altra diminuzione e chiudiamo il giro con 3 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale inizieremo sempre con una diminuzione lavoriamo adesso 17 maglie basse una procediamo dopo le 17 maglie basse con un'altra diminuzione e anche questa volta chiudiamo il giro con 3 maglie basse procediamo adesso con il giro successivo che inizierà con una diminuzione 3 maglie basse 1 2 e 3 maglie basse un'altra diminuzione e 4 maglie basse 1 2 3 e 4 maglie basse diminuzione e altre 4 maglie basse 1 2 3 4 diminuzione e chiudiamo il giro con 3 maglie basse 1 2 e 3 adesso abbiamo sul nostro lavoro 18 maglie basse facciamo 3 giri concentrici di 18 maglie basse una volta che avremo terminato i 3 giri di 18 maglie basse ci agganciamo alla maglia successiva facciamo una maglia bassissima tiriamo lasciamo un pezzetto di filo abbastanza lungo che ci permetta di cucire e fissiamo il filo a questo punto possiamo imbottire se avete già imbottito le dita procederete con l'imbottire solo la manina io non avevo imbottito le dita quindi inizio da loro mi aiuto con il gommino di una matita imbottisco non le dobbiamo imbottire in maniera esagerata devono essere imbottite ma non esageratamente anche perché poi se le imbottite troppo si rischia questo che si vede poi l'imbottitura ecco e vado ad imbottire tutta la mia manina inizio io appunto come vi dicevo con le dita e procederò con il resto della mano non la dobbiamo imbottire in maniera eccessiva basta appena appena di imbottitura dopodiché dobbiamo decidere che mano è se è la destra o la sinistra se la mano è la destra quindi quella che metteremo dalla parte destra del nostro pupazzo giriamo il pollice in questo modo se invece la mano è la sinistra lo giriamo da quest'altra parte e l'imbottitura ci aiuterà a tenerlo girato verso la parte che noi vogliamo vedete tirate il medio deve essere leggermente più lunghino così ed eccola la manina con il guantino di babbo natale e ne realizziamo due passiamo adesso alla realizzazione delle braccia per le braccia prendiamo nuovamente l'uncinetto quello grosso il filato quello più spesso ora ho un lapsus non so se ve l'ho detto ma le manine vanno realizzate con l'uncinetto numero 3 e il filato quello più sottile ora non ricordo se ve l'ho detto comunque mi auguro di sì riprendiamo come vi dicevo il filato quello più più grosso per realizzare le braccia e partiamo con un anello magico di 6 maglie basse una due fino a sei terminate le 6 maglie basse tiriamo e stringiamo l'anello e andiamo a realizzare 6 aumenti nel giro successivo quindi 2 maglie basse in ognuno delle maglie sottostanti che al termine ci daranno 12 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale realizzeremo una maglia bassa e un aumento una maglia bassa e un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 18 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale faremo 2 maglie basse e un aumento 2 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 24 maglie basse procediamo adesso adesso con il giro successivo il quinto nel quale andremo a lavorare le 24 maglie che abbiamo nel nostro lavoro in costa dietro quindi andremo a prendere solo la costina retro del punto una, due, e lavoriamo tutte e 24 le nostre costine in modo da lasciare fuori la rigina come abbiamo fatto prima nella pancia terminate le 24 maglie in costa dietro andiamo a lavorare 26 giri concentrici di 24 maglie basse questa volta ovviamente prese in maniera normale quindi prendiamo tutto il punto per lavorare la nostra maglia bassa una volta che avremo terminato di fare i nostri giri di maglia bassa i nostri 26 giri di maglia bassa procederemo con lavorare altre 12 maglie basse quindi una e dodici voltiamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 12 maglie basse a questo punto facciamo una catenella aggiuntiva tagliamo e fermiamo il filo voltiamo il nostro lavoro e andiamo a riprendere così come abbiamo fatto nella pancia del nostro del nostro babbo natale con il filato quello bianco andiamo a riprendere le 24 maglie della base allora tenete presente che questa parte qui è quella è la spalla praticamente quella che andrà attaccata alla spalla quindi è il davanti iniziamo a riprendere le maglie da dietro ovviamente in modo che non si veda quindi le prendiamo da questa parte e andiamo a riprendere tutte le nostre 24 maglie che abbiamo nelle costine lavoriamo come prima nelle costine che abbiamo lasciato quando abbiamo lavorato il giro in costa dietro quindi andiamo a riprendere tutte le nostre 24 maglie lavoriamo adesso 8 giri di 24 maglie basse una volta che avremo terminato di fare i nostri 8 giri di maglia bassa andremo ad agganciarci come sempre nella maglia successiva facciamo una maglia bassissima tiriamo e tagliamo un pezzetto di filo abbastanza lungo che ci permetta di cucire fermiamo il filo inseriamo il filo nell'ago e rivoltiamo pieghiamo in due la manica così e andiamo a cucire nel bordo andiamo a prendere la parte dove c'è il filo e andiamo a cucire tutto il nostro il manicotto della manica nel bordino quello di giunzione quello dove abbiamo unito i due colori così una volta terminato di cucire facciamo un punto asola e facciamo sparire il filo all'interno del manicotto così e togliamo via adesso rivoltiamo il manicotto così prendiamo la manina e andiamo ad attaccarla in questa posizione allora questa qui dove abbiamo le 12 maglie basse è ovviamente la parte della spalla la mano la dovremo attaccare in questo modo e l'attacchiamo precisamente innanzitutto ci agganciamo con il filo prendiamo l'ago e inseriamo il filo all'altro ora la manina la dobbiamo cucire in questo modo così nel nel secondo giro dove abbiamo le 18 maglie le 12 maglie basse dopo il l'anello magico nel giro successivo in questo modo proprio al centro prendiamo così e la fissiamo prendendo come sempre un punto dalla manica e un punto dalla manina un punto dalla manica e un punto dalla manina così e la fissiamo tutta ovviamente l'altra l'altra dobbiamo realizzare un'altra mano un altro braccio uguali identici a questi solo che la mano verrà messa al contrario ovviamente questa è la mano sinistra del babbo natale e la mano destra andrà messa dall'altra parte una volta che avremo terminato di realizzare entrambe le nostre mannine e entrambe le nostre braccia andremo ad attaccare al babbo natale le attaccheremo ovviamente a partire proprio dal bordino saltiamo un giro dal bordo dal collo di babbo natale scusate dal corpo di babbo natale una riga e andiamo ad attaccare dalla parte delle 12 maglie che avevamo fatto in più attaccheremo in questo modo come attacchiamo sempre tutti i nostri pezzi dei nostri pupazzi in amigurumi come vi dicevo prima in questo caso questa è la mano sinistra di babbo natale quindi il pollice è rivolto verso l'alto nella mano destra ovviamente anche in questo caso il pollice dovrà essere rivolto verso l'alto e le attacchiamo entrambe così vedete devono risultare in questo modo grazie a tutti e le attacchiamo a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.